Oh, e guarda che io sto a pulissa! Ma tu guarda che roba! Ma che l'hai preso il suo pensacchio demonnezza, il poltone? Ce l'ho con te, raccogli quel fiammifero! Oh, senti, ti ho detto di raccogli quel fiammifero! Ma chi mi te ci ha ammannato qua? Oh, ma voglio già! Oddio, oddio, sto fio del... Sì, te ha chiappato, è stereno! Disgraziato, ti ho peccato! No, perché dicono di avermi telefonato, però io non ho sentito nessuno. E allora non mi sono presentato a un appuntamento. Ah, era una cosa importante? Quando le cose non succedono, non sono mai importanti. Ma sa che lei ha delle doti nascoste? Parla come un filosofo. Deve essere la pesca, aiuta a pensare. Quello lo promettono tutti, ma non lo fa quasi nessuno. De Santis, disturbiamo? Vuole che andiamo di là? No, 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 per carità. Lei che lavoro fa? Io insegno in una palestra. Sono maestra di ginnastica. È venuto due notti di seguito a casa mia. Roba che quando stavamo insieme non l'aveva mai fatto. Le corse non mi piacciono. Giocare non gioco, perché avrei dovuto incontrare... Non mi sono fatto niente. Ah!